Ragazzi oggi sto un po' così e si mette tutto insieme Ci sono momenti che voglio lasciare tutto e ritornare alla vita di prima Ancora le persone che non capiscono di fare foto e video, foto e video Anche quando la domenica metto l'annuncio che sto in pescheria Si presentano 100.000 persone per fare foto e video, foto e video Ma non sanno di che comunque sto lavorando Non voglio essere pesante ma oggi non ce la faccio proprio psicologicamente Mi è venuta l'ansia di scendere a lavorare stamattina Proprio per affrontare lo stress di tutta la giornata Sto valutando Ciao dimmi Un video non posso piccola Sto parlando un attimo Ecco vedete Ha detto la mamma mi fai un video Grazie a tutti